ciao ragazzi polemica su Danfris cosa dire ehm lo sappiamo tutti che siamo che siamo un bersaglio che siamo nell'occhio del ciclone siamo bombardati eh da tutte le parti eh c'è questa politica del silenzio che io non condivido affatto anche perché non porta nulla altrimenti non esisterebbe la comunicazione non esisterebbero uffici stampa nelle società di calcio e cosa devo dire a Danfris e al tifoso che gli ha passato il cartello e nell'euforia magari una birrettina in più possono essere cose che succedono magari era meglio evitare però non vedevano l'ora di romperci le scatole sempre su Denzel Danfris che chi segue questo canale si ricorda benissimo dall'inizio perché poi ricordo ho dovuto riaprirlo da solo da capo questo canale tra l'altro ha ha fatto due anni e a sei milioni e mezzo di visual certificate in due anni quindi è un canale importante eh dell'inter non per nulla mi chiesero un favore perché era uno dei canali uno dei primi cinque canali eh più seguiti dell'inter per quello riguarda Denzel Danfris sì ero al mare l'inter stava vendendo a Kimi perché ovviamente non aveva soldi non aveva fatto in tempo a ripagarlo e già se lo doveva rivendere e io c'erano gli europei e io dissi ragazzi a me piace il tezzino dell'Olanda e molti dei ragazzi in chat whatsapp che sono erati se lo ricordano sì a proposito della chat whatsapp ecco mi sono ricordato se ritrovo ok aspetta eccolo qua il code per entrare in chat whatsapp degli esonerati eh non non bisogna pagare nulla è tutto gratis ovviamente lo ricordo sempre ehm e io dissi prendiamo Danfris anche perché sapevo che con un prezzo modico poteva venire via aveva Raiola il povero Raiola come procuratore l'inter prende Danfris per dodici milioni e fa un grande affare per chi poi lo snobba Denzel Danfris in riferimento allo stiscione e a quello che le è successo ieri io ti dico che Danfris fisicamente atleticamente è uno dei pochi giocatori in Serie A che si è messo Teo Hernandez nel taschino anche nei recuperi nell'usare fisico nei contrasti Denzel Danfris perché io vedo che parecchi lo snobbano per l'amor di Dio a te piace un giocatore a me me ne piace un altro è giusto non ci piacciono a tutti le stesse cose situazioni giocatori macchine donne amici ma a Denzel Danfris vedo che molti tifosi lo snobbano io non lo venderei mai anche perché per come gioca per come gioca Inzaghi Danfris secondo me è fondamentale quest'anno ha avuto alti e bassi è vero c'era il discorso contrattuale di mezzo che sicuramente l'ho un po' destabilizzato ed è vero ma per me per come la vedo io Denzel Danfris lo tengo sempre nella mia squadra sappiamo tutti che non è Hakimi non è Cansello ma Hakimi e Cansello quello che fa lui a livello difensivo non lo sanno fare poi da centromapo in su sono molto più forti ci mancherebbe nulla da dire però te devi guardare un giocatore nel complesso in che sistema di gioco è immerso non devi guardare solo eh quello che salta l'uomo e ti mette le palle dentro che ti fa il gol devi guardare un po' tutto l'insieme come Arnautovic ragazzi Arnautovic purtroppo fisicamente è impresentabile l'ho detto anche stamattina e te lo ridico perché se ci fai caso si trova sempre ad allungare la gamba perché è in ritardo perché ha dei tempi di reazione non velocissimi e tiene eh la postura della schiena è errata cioè lui è sempre è scordinato arriva tardi su sulle palle cioè fisicamente purtroppo non c'è più a trentacinque anni è grosso avrebbe bisogno di giocare di allenarsi tutti i giorni continuamente un po' come lo era per Vieri il fisio è quello ed è purtroppo un giocatore ha fatto un flop clamoroso in zaghi dice Marco deve rimanere ma quelle sono per come la vedo io quelle le sono delle frasi di circostanza ma veniamo a Peppino Marotta e dice quello che l'estate scorsa diceva Giuse che veniva offeso da tanti tifosi no da tanti no però comunque qualcuno mi offese anche l'anno scorso quando io ero contro Giudacu che dicevo lasciamolo là tra l'altro notizie dell'ultima ora sembra che la Roma gli abbia detto ascolta Ricciolo troppi costi troppa spesa poca resa non ti riscattiamo quindi a a quei tifosi dell'Inter che lo reputavano fuori classe perché negli ultimi due tre anni Lukaku ragazzi ha fatto ridere dal Cezi all'Inter alla Roma ricordo che all'Inter si fece male a gennaio e tornò potabile potabile non in forma potabile a fine marzo quindi di cosa stai ragionando ricordo anche purtroppo le condizioni economiche scandalose in cui siamo ti hanno fatto spendere 23 milioni per un anno per Lukaku ti hanno fatto prendere Arnautovic a dieci e te in un anno hai speso 35 milioni e non ti è rimasto nulla praticamente perché cosa vuoi fare con Arnautovic ti toccherà cederlo secondo me cercare di cederlo non te lo compra nessuno perché a 35 anni è un ingaggio importante 3 milioni speriamo che trovi l'Inter trovi qualcuno e ti paghi l'ingaggio perché non vorrei che tu tipo Godin per fare un esempio non vorrei che per darlo via tu dovessi concorrere anche un po' all'ingaggio attenzione perché è già successa questa cosa ma Marotta dice una cosa e Giuse dieci e non era nessuno Giuse dieci magari non era il solo io parlo di Giuse dieci perché il canale è mio e dice la nostra fortuna non aver ripreso Giudaku il no di Giudaku è stata la nostra fortuna e questo lo dice Peppino Marotta io ti dico che Lukaku sarebbe stata sicuramente una presenza molto ingombrante nello spogliatoio tatticamente eh si sposa meglio per assurdo Arnatovic che che Lukaku per il gioco di Inzaghi ovviamente e anche e e anche Lukaku fisicamente è arrivato all'Inter con un tono muscolare eh molto depotenziato è arrivato depresso perché ha fatto un anno di panchina a Londra gli tiravano i pomodori e alla fine della fiera è stato un giocatore che non è andato quasi nulla ricordiamoci anche il gol sbagliato in finale poi tra l'altro bisogna sempre chiedersi una cosa ragazzi anche lì tutti a rompere i coglioni Turam Turam le prime tre giornate dissi diamogli dieci giornate di tempo a Turam e poi valutiamolo c'è ancora il video su YouTube attivo vai a riguardarlo all'ottava giornata tutti i siti su Turam ci siamo capiti e agli atti ve lo sto dicendo eh ma quindi con Lukaku noi avremmo visto questo Turam con la sua presenza ingombrante nello spogliatoio perché te che pensi Lukaku stava in panchina zitto e muto lui sentiva ancora il re di Milano lui è il re del ristorante non è il re di Milano ormai quindi te guarda quanti benefici ci ha portato il fatto di non riprendere quel giocatore lì che a livello tattico tecnico a noi non ci sarebbe servito quasi per nulla poi che magari mi dice avrebbe fatto più gol di a Natovic non avete già detto è quello probabile però poi alla fine avrebbe fatto anche più gol di a Natovic ma li fa anch'io più gol di a Natovic il problema però era l'armonia dello spogliatoio la tranquillità dello spogliatoio perché io ci sono tante cose che non mi piacciono e esterno continuamente ma ho sempre detto e riconosciuto che uno dei successi di questo milano lo sportivo di questi ragazzi di questa squadra è stato proprio il clima dello spogliatoio perché io raramente e non ho più 20 anni e ho molti di più di 20 io non ho mai visto un clima così bello nello spogliatoio dell'Inter anzi forse mai un clima così bello di gente che si aiuta l'un con l'altro perché fino a due anni fa qualcuno si mandava a quel paese in campo se vi ricordate quest'anno ragazzi uno dei segresi del successo è stato proprio rispettarsi l'uno con l'altro ed il clima dello spogliatoio quindi con Lukaku secondo me queste cose non non ci sarebbero stato e poi ricordatevi sempre che quando Lukaku si infortuna per la prima volta Inzaghi mette Geico perché ovviamente aveva solo lui ma quando Lukaku ritorna il titolare nelle partite importanti è sempre Geico non è mai Lukaku Lukaku gioca uno spezzone di fine campionato ed entra al settantesimo in finale di Champions League quindi ogni tanto magari si si indovinano delle cose inaspettate perché chi avrebbe mai pensato che a non riprendere Giudaku sarebbe stata la nostra fortuna quando te lo diceva Giuse 10 la gente rompeva i coglioni ora te lo diceva rotta e quindi ragazzi il calcio è questo però la cosa su cui bisogna focalizzarsi secondo me è che ti hai speso 22 milioni per noleggio un anno per quel mezzo giocatore di Lukaku perché ad oggi secondo me è un mezzo giocatore e la Roma da quando non gioca lui e gioca l'altro come ho detto stamattina gioca molto meglio e ne hai spesi altri 10 per Arnatovic quindi ti hai speso circa 35 milioni in due anni e non c'hai ancora un centro avanti sano per bene davanti ciao Inter grazie a tutti